Quello che vedete nelle mie mani è un box molto particolare, una scatola che ci fa entrare in un mondo completamente nuovo e tra l'altro questa è un'anteprima assoluta. Abbiamo Asus Zenfone AR. Vediamo però, la scatola è molto interessante, ma io direi di vedere quello che c'è dentro questa confezione gigantesca. Ci sono delle cose interessanti da notare perché ci sono un clear case inside, uno screen protector, tango e poi anche la compatibilità con il Google Cardboard. Ma vediamo di aprire proprio la confezione di Zenfone AR. Allora c'è il telefono, ma girando il coperchio della confezione ecco la prima sorpresa. Guardate, qui dentro praticamente c'è un vero e proprio Cardboard. Si utilizza essenzialmente prendendo il telefono, mettendo il telefono all'interno di questa scatola. Vedete, ci sono le indicazioni su come fare questa particolare operazione. Il telefono si piazza in pratica al posto che viene indicato dal disegno. viene creato lo spazio, come vedete, che è necessario per l'inserimento e poi si mette il visore nella posizione frontale. In realtà, scusate sto facendo impazzire un po' Francesco, il visore vero e proprio non è tanto questo della confezione quanto quello che vedete in questo momento. In questo modo avete un visore molto semplice, molto easy, molto facile per poter accedere alle contenuti di realtà virtuale. Diamo sempre un occhio dentro la scatola, il caricatore con Super Super Powers, le cuffiette di buona qualità e poi il cavo di connessione con USB Type-C come modalità di collegamento. Ma il telefono vero e proprio, abbiamo recuperato dalla scatola dove l'avevo buttato qualche secondo fa. Eccolo, il telefono vero e proprio è questo, con un sensore di impronte digitali nella parte anteriore, un display Super AMOLED da 5,7 pollici con una definizione elevatissima, 1440x2560 pixel. C'è un ottimo rapporto tra la dimensione del display e la superficie totale, siamo al 79%. Ma la caratteristica fondamentale viene nella parte posteriore del telefono. Guardate quanti sensori di fotocamera ci sono, perché questo è il primo telefono che arriva commercialmente sul mercato con la compatibilità con il project Tango di Google, ma anche con la compatibilità piena con Daydream, quindi con la realtà virtuale. Un sensore principale da 23 megapixel, un sensore di profondità e poi un sensore per tracciare il movimento. Tra l'altro, dando un occhio a questo telefono nel complesso, a questo punto trovate il cassettino per la nano SIM e la micro SD, per l'espansione di memoria nella parte inferiore, l'attacco per le cuffie, il connettore USB Type-C e poi l'altoparlante. Su questo dovremmo spendere un po' di tempo, perché la qualità audio è veramente ottima. È costruito con 5 magneti, con una nuova soluzione che dà all'audio, poi lo sentiremo, una qualità più che elevata. Su questo lato invece il pulsante di accensione e il volume rocker o controllo del volume. Nella parte superiore invece il bilanciamento del rumore, poi vedete le parti dedicate alle antenne. Allora, qual è la particolarità di questo telefono? Sta nella compatibilità in particolare con il project Tango. Il project Tango ha già degli esempi che sono all'interno di questo telefono, ad esempio nel programma che si chiama Measure. Vedete, quando io ho uno spazio praticamente davanti a me, adesso cercheremo con Francesco di mostrarvi essenzialmente quello che potete fare. Vedete, io punto il telefono nella parte superiore, ho messo il punto A, scendo fino alla parte in basso, presumibilmente questo sarà l'angolo. Vedete, a questo punto io ho misurato esenzialmente l'altezza di 2,7 metri, spostandomi ovviamente in un qualunque punto sono in grado di fare una misurazione proprio grazie ai sensori che sono applicati al telefono. Questo non serve solo ovviamente per misurazioni di questo genere, ci sono delle applicazioni, ad esempio, che sono fatte con software per misurare la dimensione di una stanza e mettere all'interno di questa stanza dei mobili. Un esempio che viene riportato, ad esempio, è i staging. Vedete, ci sono diversi oggetti che sono riportati. Avete la possibilità di posizionare questi oggetti in un ambiente reale. È un ambiente, vedete, viene fatta essenzialmente la scansione di uno spazio, adesso viene fatta la misurazione dello spazio, dobbiamo lasciare che venga fatto il posizionamento del contenuto, vediamo se siamo riusciti a posizionarlo, il contenuto. Adesso non so perché non appare, perché nelle prove che ho fatto nei giorni scorsi qui dovrebbe apparire la parte tridimensionale, essenzialmente esattamente dove c'è questo simbolo, la parte tridimensionale. Vediamo di aggiungere qualcos'altro, di aggiungere essenzialmente un... c'è il download delle informazioni per proprio l'applicazione. Vedete, nel punto in cui io vado a scegliere... eccolo qua, vedete, è stato posizionato in tempo reale con una dimensione che è proporzionale a quella reale della stanza che è stata ripresa, è stato posizionato proprio il contenuto. E lo si potrebbe fare all'interno della stanza anche con sedie, con, non so, con il phone, anche se non credo che ne vorrò mai comprare uno. Vedete, potete prendere essenzialmente un phone e posizionarlo, adesso lasciate, vedete, messo, esattamente con la realtà aumentata, in un ambiente vero, con una proporzione delle misure che è precisa, perfetta rispetto alla realtà che ci circonda. Questa ovviamente è una soluzione molto bella. 8 giga di RAM con un processore che è lo Snapdragon 821, batteria comunque capiente, capace di, diciamo, farvi vivere a lungo una giornata intensa anche con questo telefonino, ma l'unica cosa che vi segnalo, che è l'unico problema che io ho riscontrato provandolo, è che il processore scalda veramente, veramente tanto. Questa è l'unica cosa che ci sono alcuni momenti in cui si sente l'azione proprio del calore del processore. Altro dettaglio di questo telefono è la fotocamera frontale da 8 megapixel, invece vi ho detto che quella posteriore, che ha una possibilità, vedete, di mettere l'HDR automatico, la possibilità di gestire il bilanciamento del bianco, insomma, le modalità di ripresa, il tipo di risoluzione, io ad esempio l'ho abbassata a 16 megapixel perché mi piace molto il fatto di utilizzare le riprese a 16.9. Potete gestire la modalità manuale di riprese, vedete, in questo modo potete andare a controllare quelli che sono molti dei dettagli di gestione della fotocamera, oppure avete la modalità automatica in cui la fotocamera fa tutta da sé. Ci sono tantissime, infinite modalità di ripresa per la fotocamera, vi segnalo ad esempio quella dedicata ai bambini che vi dovrebbe permettere di fissare la foto anche di soggetti non proprio inclini a rimanere stabilmente davanti alla fotocamera. Tutto questo ovviamente con l'utilizzo dell'interfaccia tipico di Asus che bisogna dire tra l'altro è migliorato notevolmente, vedete in questo modo con uno swipe dal basso verso l'alto avete la possibilità di gestire le icone, di gestire tutte le preferenze che avete di sistema e devo dire che rispetto al passato è migliorato notevolmente. Per il resto poi c'è la personalizzazione sempre piuttosto evidente di Asus rispetto al software invece stock di Android. Asus si vede sempre, interviene sempre molto in modo molto massiccio sull'utilizzo, sull'interfaccia del telefono. Con uno swipe laterale dopo l'ultima finestra andate su Google Now. Questa è una delle pochissime cose che sono state mantenute rispetto ad una versione stock Android. Per il resto invece la personalizzazione è piuttosto presente. C'è anche la possibilità di utilizzare Daydream, quindi la realtà virtuale nel momento in cui avete un Google Cardboard oppure potete utilizzare come detto anche il visore che abbiamo visto precedentemente. Per quanto riguarda la velocità, io tutte le volte risetto i telefoni per evitare di mostrarvi che frequento abitualmente siti solo per adulti, quindi per evitare di mostrarvi tutte le estensioni che vedo di solito. Vedete, adesso guardiamo un attimo quando la pagina è caricata, stiamo finendo il caricamento della pagina, essenzialmente la gestione del telefono comunque è sempre molto fluida. Devo dire che il lavoro di ottimizzazione che è stato fatto è veramente notevole. Se vogliamo anche fare un lavoro, facciamolo da questa parte però, scusate, vi faccio perdere qualche secondo, andiamo alla ricerca di TuneIn Radio per ascoltare Radio No.1 e per sentire anche proprio l'effetto dello speaker con i cinque magneti costruito davvero in modo eccellente. Andiamo a prendere Radio No.1, diamo il via all'audio e ascoltiamo insieme per pochi secondi l'audio disponibile. Allora, il volume non è mai altissimo, il volume non è altissimo però vi assicuro che la pressione del suono che viene messa ma soprattutto la qualità anche dei bassi ha pochi avversari degni nel mondo degli smartphone. Cioè veramente è un prodotto che rispetto a quello che si trova in giro ha una qualità audio veramente notevole e come detto Asus ci ha messo questa soluzione con cinque magneti studiata veramente molto molto bene. Questo secondo me non è un prodotto per tanti, anzi è un prodotto per un pubblico piuttosto ricercato, di nicchia, rappresenta un'avanguardia rispetto alla soluzione del project tango, rispetto a Daydream e quindi anche alla soluzione della realtà virtuale. ripeto, un prodotto di nicchia ma molto interessante, lo si trova ad un prezzo che oscilla tra i 700 e 800 euro. Insomma, bisogna essere secondo me degli appassionati del tema per farsi attrarre da Zenfone AR.